Mi è ricapitato di riflettere sul linguaggio inclusivo e più precisamente sul cosiddetto maschile sovraesteso o maschile generico o maschile inclusivo, fenomeno a cui è legata anche la proposta dello schwa, di cui si parla molto. Io avevo già fatto due video su questo argomento, ma questa volta mi è capitato di sviluppare un pensiero diverso, cioè di affrontare una prospettiva, di vedere una prospettiva inedita per me e che non ho sentito portare nel dibattito che pure è acceso e diversificato. Nessuno mi pare abbia mai considerato le cose dal punto di vista che sto per illustrare. Allora di cosa si sta parlando? Per chi non avesse capito proprio di cosa stiamo parlando, di questo. Del fatto che in italiano se ci sono due operai maschi, se ci sono tre operai e, femmine, donne, sono tre operai e, se costoro si riuniscono e lavorano assieme diventano un gruppo di cinque operai. Quindi il finale di parola, la desinenza, è in i esattamente come se fossero tutti maschi. Oppure ci sono cinque bambini maschi, cinque bambine femmine, si riuniscono a giocare assieme e diventano dieci bambini, esattamente come se fossero tutti maschi. Questo per alcuni non è giusto, è una discriminazione, alcuni dicono ciò invisibilizza il genere femminile. Insomma, da qui è nata la proposta di usare in tali casi, cioè nei casi in cui ci sia un gruppo misto di maschi e femmine, un suono, una vocale che non appartiene all'alfabeto italiano ma appartiene all'alfabeto fonetico internazionale che è lo schwa, che è così, quindi non è né o né a né e né i. Quindi due operai e tre operaie formerebbero un gruppo di cinque operai. Cinque bambini maschi e cinque bambine formerebbero un gruppo di gioco di dieci bambini e non bambini. Poi c'è anche un altro motivo di uso dello schwa, un altro beneficio che sarebbe portato da questo suono ed è includere il caso in cui ci siano delle persone cosiddette non binarie, cioè persone che non si identificano né col genere maschile né col genere femminile, cioè che non si sentono né maschi né femmine, non si sentono né lui né lei. Allora, usando lo schwa, questo suono e, si intende tutti, tutti, maschi, femmine, non binari, quindi né maschi né femmine. Se io dico buonasera a tutti, uno può pensare che stia parlando solo con i maschi, se io dico buonasera a tutte e a tutti, uno può pensare che stia parlando solo con i maschi e con le femmine, ma non con le persone non binarie, se io dico buonasera a tutte e tutte e tutte, quindi nessuno è escluso. Bene. Quindi in sintesi, in tal caso si propone di modificare l'italiano laddove ci sia un gruppo misto di persone, cioè alcuni maschi, alcune femmine, e di lasciare intatto l'italiano laddove il gruppo sia esclusivamente di maschi. Ok? Ok. Propongo una visione diversa della cosa, un modo di procedere completamente diverso. Secondo me la cosa giusta da fare è modificare il caso in cui il gruppo sia esclusivamente maschile e lasciare intatto il caso in cui il gruppo sia misto. Cioè se c'è una folla di persone, alcuni maschi, alcune femmine, alcune persone non binarie, si può dire buonasera a tutti. Se ci sono due operai maschi e tre operai e femmine assieme diventano cinque operai. Perché? Perché? Perché il cosiddetto maschile sovraesteso o generico o inclusivo non è davvero un maschile. Non è davvero un maschile. Non indica la presenza esclusiva di maschi. E voi direte scusa ma mi rendo conto. Allora, se io dico che al compleanno di mia figlia c'erano dieci bambini e questi dieci bambini in italiano, dieci bambini può voler dire che erano nove femmine un maschio, otto femmine due maschi, sette femmine tre maschi eccetera eccetera eccetera. Evidentemente non si tratta di un maschile. Evidentemente non si tratta di un maschile. Si tratta di un misto, un generico, un indeterminato, un non esclusivamente femminile. E voi direte scusa, ma allora cos'è? Ha sbagliato il nome? Allora perché l'han chiamato maschile se non è maschile? Se l'han chiamato maschile ci deve essere un motivo. Certo, c'è un motivo. Il nome non è sbagliato. E' che quella desinenza lì indica anche il maschile, non solo il maschile, anche il maschile. Cioè, se io dico i due tori, i tori sono maschi. Se io dico tre arieti, gli arieti sono per forza maschi. Se io dico quattro verri, i verri sono per forza maschi. Anche, non solo. Perché in grammatica le cose funzionano così. Si danno nomi che non sono definizioni, ma sono esemplificazioni. Indicano non la totalità dei casi, ma un caso. Indicano non la totalità delle possibilità, ma una possibilità che viene mostrata, che viene indicata appunto a scopo esemplificativo. cioè per capirsi. Vi faccio degli esempi. Se li avete presenti, gli aggettivi possessivi. Gli aggettivi possessivi. Mio, tuo, suo, loro, nostro, vostro. Secondo voi, gli aggettivi possessivi che si chiamano possessivi, indicano il possesso? No. Non indicano il possesso. Cioè, non indicano solo il possesso. Non indicano sempre il possesso. Indicano anche il possesso. Siccome indicano anche il possesso, per dargli un nome li hanno chiamati possessivi. Ma non indicano solo il possesso. Cioè, se io dico che questi sono i miei occhiali, certo, sono di mio possesso. E il mio telefono è di mio possesso. Ma se io dico che io ho una sorella che si chiama Rossella e lei è mia sorella, non è che mia sorella è di mia proprietà. In quel caso lì, l'aggettivo possessivo non indica il possesso, indica una relazione familiare. Lei è mia sorella, come io sono suo fratello, non c'è un possesso, non è uno dei due che possiede l'altro. Se io dico che Cesena è la mia città, non vuol dire che io sono il padrone della città, che sono Cesare Borgia, che ha conquistato la città e sono il Gran Duca di Romagna e abito e vivo a Palazzo Albornoz. No, vuol dire che è la città dove sono nato, che è la città più vicina a dove vivo. Se io dico che la mia squadra di calcio è l'Inter, non è che io sono il presidente dell'Inter, non è che è la mia, non è che la possiedo. Può essere la squadra di calcio in cui gioco, può essere la società per cui faccio il tifo. Quindi si chiamano così, aggettivi possessivi, ma non indicano il possesso soltanto, esclusivamente, sempre. Anche il possesso, bisogna dargli un nome. Allora, hanno scelto un nome che è uno dei tanti possibili. A riprova di ciò, ci sono casi in cui l'aggettivo possessivo non indica un possesso, ma l'opposto. Vi spiego. Se io sono uno schiavo e dico che il mio padrone oggi mi ha frustato, perché gli ho mancato di rispetto, cioè io mi sono, mi sono, l'ho salutato prosternandomi così, però non troppo velocemente, ci ho messo un po' a prosternarmi. Allora lui giustamente si è sentito offeso e mi ha dato dieci frustate. Il mio padrone, lo chiamo il mio padrone, ma non vuol dire che io lo possiedo, sarà lui che possiede me. Se lui è il padrone e io sono lo schiavo. Se io dico che prego il mio Dio, non è che quel Dio lì è di mia proprietà, che io lo possiedo. Giusto? Giusto? Naturalmente c'è chi non sa l'italiano. Naturalmente c'è chi non sa l'italiano. Perché? Io una volta ho avuto l'amalugurata idea di scrivere una frase su Facebook che diceva non so, sono felice che la mia cooperativa abbia fatto questo e quello e naturalmente sono arrivate persone ad accusarmi, come la mia cooperativa, che è la tua cooperativa, è di tua proprietà, sei il padrone, allora che cooperativa è? Se sei il padrone unico tu. Ma no, non è di mia proprietà, se no non sarebbe una cooperativa, è la cooperativa di cui io sono socio, quindi è come la mia squadra, è come la mia città, è come mia sorella. Ok? Ecco. Quelli che pensano che dieci bambini sono tutti maschi perché bambini è maschile, per me è gente che non ha chiarissimo come funziona l'italiano, esattamente come uno pensa che io possiedo il mio padrone perché è il mio padrone e mio è un aggettivo possessivo. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Volete degli altri esempi? Volete degli altri esempi? Allora. Ecco. I casi in latino. I casi in latino. Allora, c'è un caso che si chiama accusativo. Ma perché indica solo l'accusa? Si usa solo nell'accusa? No! Si usa anche nell'accusa e quindi è anche amato accusativo. Lo potevano chiamare in altro modo, però era comodo chiamarlo accusativo. Cioè, se io dico ego plautum accuso, io accuso plauto. Plautum è l'accusativo. Se no, se fosse al nominativo sarebbe plautus. Invece plautum è l'accusativo. Naturalmente si possono dire altre cose all'accusativo, che non sono un'accusa. Ego plautum provoco. Io sfido plauto. Allora avrebbero potuto chiamare l'accusativo, non accusativo, ma sfidativo. Io posso dire ego plautum saluto. Avrebbero potuto chiamarlo salutativo. Io posso dire ego plautum edo. Io mangio plauto e se uno è un cannibale. E se uno è un cannibale avrebbero potuto chiamarlo mangiativo. Ma hanno scelto un nome fra i tanti possibili. Ok. È chiaro. È chiaro. Beh. Quindi, secondo me, dieci bambini, dieci bambini, cinque per a, i, eccetera. Si chiama maschile, ma indica il caso in cui non ci siano solo ed esclusivamente femmine. È il non totalmente femminile. Come definizione. Come esemplificazione, per dargli un nome un po' più sintetico, maschile. Non è maschile. Come l'accusativo non indica l'accusa. Come gli aggettivi possessivi non indicano il possesso. Ok. Il caso delle persone non binarie. È perfetto. È perfetto. I. I. È il non totalmente femminile. Sei non binario. Quindi sei non totalmente femminile. Posto. Buonasera a tutti. Tutti vuol dire maschi, femmine e non binari. A posto. La cosa da cambiare sarebbe l'altra. Sarebbe l'altra. Il caso in cui ci sono persone maschie. Ci sono solo maschi in un gruppo. Tu, se sono solo maschi, non puoi dire che sono cinque operai. Non lo puoi più dire. Cioè, o non ti interessa il sesso. Ti interessa solo la forza lavoro. Allora puoi dire cinque operai. Però cinque operai in generale vuol dire che è un gruppo misto. O un gruppo di cui tu non conosci. O un gruppo di cui tu non conosci. Ehm... Gli appartenenti. Ok. Cinque operai. Ma se tu vuoi dire che sono cinque operai e tutti maschi, lo devi specificare. Cinque operai maschi. Cinque operai tutti maschi. Se non vuol dire che è misto. Al compleanno di mia figlia c'erano dieci bambini maschi. C'erano solo maschi. Il numero di dieci. Se dici dieci bambini, dai per scontato che non erano tutti maschi. Se ci pensate in italiano è già così. E' quasi così. E' quasi così. Ecco. E' quasi così. Sì, certo. No. Non è proprio così. Nel senso che uno può dire sono andato in quella fabbrica, ho parlato con due operai e tutti pensano che siano due maschi. Senza dire che sono maschi. Ma questo è derivato dal fatto, è dipendente dal fatto che solitamente il mestiere di operaio è svolto in percentuale maggiore da maschi che da femmine. però vabbè si può fare una una piccola rivoluzione imponendo che quando si vuole intendere che siano tutti maschi bisogna specificarlo. Maschi. Tre soldati maschi. Cinque guerrieri maschi. se no vuol dire che c'erano anche delle amazzoni. Ecco. E' un gioco. E' una provocazione. E' una riflessione. Ma mi sembra che questa proposta qui sia più abbordabile, sia più verosimile, sia meno improbabile come entrata in uso dello schwa. No. Comunque. Questa è solo una parte minima della riflessione che ho sviluppato che poi mi sono reso conto era molto più articolata di quello che io avevo pensato, avessi pensato. Non mi ero reso conto di aver fatto una trattazione così completa. Se vedo che la cosa suscita un dibattito interessante proseguo, proseguiamo. Io sono disposto al confronto con qualsiasi linguista, con qualsiasi sociolinguista. Io sono disposto al confronto. Umilmente, con rispetto, con rispetto perché in realtà queste persone qui che indicano come soluzione lo schwa, che indicano, che insomma riflettono sul linguaggio inclusivo, sono le persone che la pensano come me. Cioè alla fine, in media, su un po' tutte le questioni, queste sono le persone che la pensano come me. Non sono i miei nemici, non sono i miei avversari politici, sono quelli che stanno dalla mia parte nella quasi totalità delle battaglie. In questo caso qui dello schwa, io mi sento di dire che non sono d'accordo e quindi con un atteggiamento che ritengo non ipocrita, con un atteggiamento che ritengo di onestà e di apertura intellettuale, lo dico, lo dico rispettosamente, lo dico sapendo di contrastare quelli che stanno dalla mia parte in un certo senso, però lo dico, lo dico. Ma perché uno si deve uniformare per forza? Perché tutti quelli diciamo che di solito sono d'accordo con lui pensano in una maniera, deve anche lui pensare così o far finta di pensare così. No, uno se non è d'accordo lo dice, con rispetto, civilmente. Ripeto, io sono disposto al confronto con qualsiasi linguista e qualsiasi sociolinguista. Vabbè, basta. Questi sono i video che faccio così in modo estemporaneo, vedete, proprio quando mi viene voglia come mi viene voglia. Se volete avere un confronto, un raffronto, un dialogo, una relazione più un po' più profondita forse, insomma, avere dei contenuti in più, c'è questo progetto bellissimo che si chiama Tip I, scritto Tip EEE, vi lascio il link in descrizione e potete accedere a una specie di abbonamento a prezzi popolari, popolarissimi, diciamo, e altrimenti ci vediamo qui, in modo un po' così, estemporaneo. Ciao, buona riflessione rispettosa a tutti.